Questo pezzo si intitola Falsa età dell'oro E' questa infelicità che ci fa sentire fragili Un lupo come me resta solo con la propria coscienza Ah, fottersi d'ansia fra le coperte Dicendo qui non cambia niente Ma quando ho visto la ragazza immobile Non aver timore dei poliziotti e degli idranti Restare ferma senza dire niente Ho capito è pronta a farsi male Brucia come sale Questa falsa età dell'oro che Lucica mi abbaglia E così forte inizio a correre Senza più fermarmi Che cosa faccio ancora qui? E dovrei essere pe strada Farmi male in semea lei In semea lei In semea lei Ma un lupo come me Non si è mai saputo difendere E questa è la verità L'unica verità Gli scontri e lo shock Le fiamme E i disordini Io non ho più la forza di Restarla a guardare C'è come sale Questa falsa età dell'oro che Lucica mi abbaglia E così forte inizio a correre Senza più fermarmi Che cosa faccio ancora qui? Dovrei essere pe strada Dovrei essere pe strada Per farmi male insieme a lei Insieme a lei Insieme a lei Insieme a lei 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 I nostri appuntamenti sono i discorsi sacri, sono i ritiri ancestrali. Ma da tempo vorrei avere un buco nel petto, che si fa spazio nella carne. Per vedere se c'è ancora qualcosa di me, a volte non so più chi sono io. E non so, più che sei tu. Conosco il posto, conosco l'ora in cui ci spugliamo nudi, in silenzio ed in fretta. Poi io rimango come in apnea. E tu mi guardi e non c'è alcuna tuta spaziale, In cui mi passi l'ossigeno, in cui si assicurò lasciarsi fluttuare, Fra la distruzione e l'assoluta bellezza. Ma poi mi svegli e non so, più chi sono io. E non so, più chi sono io. Mascara, Bunker TV, grazie mille per essere venuti. Grazie a voi. Cosa ci avete suonato stasera? Allora, il primo brano era sempre estratto dal nostro ultimo lavoro, che si chiama Lupi, e si chiama Falsetta del loro. E dopo? Dopo, sempre un altro brano, che in realtà è una veste molto elettronica del disco, quindi è piacevole provare a dargli una nuova veste, e si chiama Riti Ancestrali. Io ho in mano qui il vostro lavoro, Lupi. Quando è uscito? È uscito il 15 di aprile. Correggimi Claudio, se sbaglio, lui è la mente storica della band. Sì, è la mente storica, nonché calendario. Mente storica. Calendario andiamo male noi. No, è uscito il 15 aprile di quest'anno, quindi 2014 per i posteri. E niente, è stato, è un bel lavoro, secondo noi è stato un bel lavoro produrlo e registrarlo. Cioè, c'è stato un annetto, secondo me, di lavoro intenso, però siamo molto soddisfatti, abbiamo avuto modo di collaborare con persone fantastiche, dal punto di vista umano e professionale, in posti molto belli come, vabbè, il Mono Studio dove ormai è, come Casa Nostra, o il Sottomare Studio di Verona, che è un altro posto eccezionale, e siamo molto contenti. Stavo chiedendo delle vostre collaborazioni, infatti, no? Anche a livello musicale ce ne sono state tante negli anni. Sì, negli anni, allora, a livello, diciamo, musicale, quindi persone che hanno suonato oltre noi cinque. C'è stato, vabbè, nello scorso lavoro abbiamo fatto venire una piccola orchestra composta da giovani musicisti del Conservatorio di Milano, mentre invece, ad esempio, in questo disco ci siamo avvalsi di Stefano Papa per alcune parti di Sassofono. Notate la Val, sì, che mi sembra che Nobility la... Decisamente la mente della... C'è da sottolineare che siamo dei cazzari senza una fine, però... Però in questo caso abbiamo un lessico vario, e anche lessico vario... E non è il vostro primo album? No, 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 questo è il... L'album prima esce? L'album prima usciva sempre il 15 di aprile, una roba del genere. Sempre Costello? No, non tramite Costello. Avevamo, eravamo, anche in questo album abbiamo delle edizioni che sono sotto Eclectic Music Group, per questo disco. Lo scorso era Eclectic Music e Universal, avevamo una collaborazione con una major, e quindi c'era un po' di differenza nell'organizzazione, sicuramente. E adesso l'ho portato in giro? Lo portiamo in giro, anche perché ha una veste molto più aggressiva, anche se forse non è il termine corretto, e più robusta a livello di live rispetto al precedente, che era molto melodico e aperto. Quindi noi lo portiamo in giro, uno, perché è un passo in più anche a livello di divertimento sul palco, quindi lo portiamo con una carica emotiva molto più forte, e abbiamo degli appuntamenti adesso che ci permetteranno di mettere in mostra queste cose. Siamo partiti dal Rocket di Milano come presentazione del disco, e adesso le prossime tappe dovrebbero essere l'Onky Tonky a Seregno, il Claudio adesso si avvale di un... Questa è difficile, ma tanto noi la postiamo sotto con la data, quindi mettiamo giù sotto tutte le date. Quindi all'Onky Tonky di Seregno, il 29 maggio all'Onky Tonky di Seregno, il 12 giugno all'Oibo a Milano, il 20 giugno a Novara, un secret show di cui onestamente ne sappiamo poco pure noi, Non è vero, comunicata all'ultimo, saremo al Carroponte, con il massimo volume il 24 giugno. Ok, ci siamo anche noi comunque, quindi ci rivedremo lì. E poi suoneremo a luglio, adesso però mi scappa la data. Questo è il 29, questa la so io. Il 29 di luglio alla Night Like This Festival a Chiaverano, insieme a tanti altri gruppi della scena indipendente, con i Soviet Soviet, Isklen Sinet e sarà quindi un bel momento collettivo da condividere. Chi manca stasera? Perché hai detto 5 e giustamente presentiamo i due che mancano. Mancano Simone Scardoni e le tastiere, che fa un sacco di rumori strani e bassi giganteschi, e il bassista Marco Piscitiello. Cioè ci sono le percussioni ma manca la batteria. Esatto, manca la sezione ritmica. Raccontateci dei testi del vostro lavoro, cioè di come nascono. Il tentativo è sempre quello di raccontare in maniera abbastanza emotiva dei momenti particolari della vita. Nel presente lavoro era una roba molto ampia, nel senso che era il concetto di maturità, che si sviluppava quindi dalla giovane età fino a diventare adulti. Quindi era un tema abbastanza alto, cioè volevamo abbastanza alto. In questo lavoro invece c'è stato da parte mia, visto che scrivo i testi quindi mi assumo la responsabilità, di scendere molto più vicino ai soggetti. Quindi avevo bisogno di, per esempio, dei nomi. Quindi i due protagonisti che sono anche sulla copertina, si chiamano Isaac e Laika, perché volevo in qualche modo dare sì l'impressione che ci sono due personaggi, ma anche togliere qualche coordinata. Non mi piace la fedeltà esatta del racconto, nel senso che prefisco utilizzare un po' di immaginazione per raccontare qualcosa. In questo lavoro c'era la volontà di mettere a nudo quali sono le paure del trovarsi di fronte a una situazione inaspettata e che ti mette di fronte a una trasformazione che magari non avevi preventivato. Quindi mi sono immaginato una città devastata da una guerra e due ragazzi che sopravvivono a questa cosa. Il rapporto che hanno e il modo in cui affrontano questa cosa è diametramente opposto. Tra l'altro personaggi che voi tenete nel tempo, no? C'erano anche negli epi precedenti. Alcuni di questi. In qualche modo c'era questo racconto dell'evoluzione e della crescita, che secondo me è una costante di quello che racconto. Probabilmente perché è un periodo proprio di tanti cambiamenti veloci. E quindi è sempre qualcosa, però preso da un lato completamente diverso. Sicuramente questo è molto più vicino e terreno. Quindi con situazioni che potrebbero per esempio essere prese, ho pensato alla primavera araba, ho pensato alle persone che lottano per la Notav. Cioè una serie di situazioni, magari anche dei conflitti con la polizia, con le forze armate, che non è un contro alle forze armate, è proprio trovarsi in una situazione di completa instabilità e doverla affrontare con i mezzi che siano emotivi. Quindi può esserci un rifiuto, quindi un rifugio nella fuga, oppure la volontà di lottare. Però non c'è una chiave di lettura univoca. Mi piace lasciare aperto a più interpretazioni. Come nella prima traccia che avete fatto stasera. Assolutamente. Esattamente. In Tutti usciamo di casa invece era proprio degli stadi evolutivi diversi. quindi volutamente lasciavo apertissime le porte alle interpretazioni. Non c'erano personaggi veri e propri. C'erano situazioni evolutive. Perfetto. Ragazzi, davvero grazie mille. Grazie mille a voi. Grazie di essere venuti. Ci vediamo al Carro Ponte. Oh, fantastico. Se non è anche le altre date. Certo. E vi riaspettiamo per il prossimo album. Grazie mille. E le prossime uscite. Grazie davvero. Grazie. Ciao. 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 Ciao.